Trema e soffre il Bari in riva allo stretto, bello di notte in Coppa Italia deve indossare la tuta del campionato, adattarsi alle esigenze e sudare per strappare un punto tutto sommato meritato. Lo mette assai presto alla frutta la regina passando il vantaggio dopo 17 minuti con Zanin su azione conseguente a calcio di punizione di Mariotto. La gioia della folla dura appena tre minuti. Su una respinta di Rosin, Lo Seto tira deciso. Sulla traiettoria si trova il capitano Amaranzo, Sasso. Secondo l'arbitro svizzato, la respinta è avvenuta con un brazzo. Vane le proteste dello stesso giocatore e dei suoi compagni. Anche a fine partita, Sasso, sentito da Franco Bruno, resta della stessa opinione. C'è stato un calcio d'angolo a fuori loro, la palla è stata ribattuta da Rosin e l'ha presa, se non sbaglio, il numero due lo sede. Lui ha tirato in porti, mi sono scivolata e la palla mi ha smesso il petto. Tant'è vero che se dalle immagini si può vedere la mia protesta verso l'arbitro mi alzo la maglia per fargli vedere la mia macchia rossa sul petto. Rigore dunque che Monelli trasforma. Rosin riesce solo a smorzare la palla ma non può impedire che finisca in rete. Altre proteste del pubblico al 26esimo, quando un intervento di mani in area barese viene ritenuto dall'arbitro in volontario. Nella ripresa dopo un avvio movimentato l'interesse cala leggermente, anche se la regina pressa di più, ed il Bari deve mantenere un atteggiamento di prudenza perché intanto ha perso l'oseto, espulso per doppia ammunizione. E dalla fine rimane l'uno a uno che poi era l'obiettivo minimo del Bari. Per la formazione calabrese il mediano Mariotto ricorda che il risultato non è troppo da buttare via e si può essere orgogliosi. Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra viva, una squadra compatta e determinata. Diciamo non siamo la squadra mazza grandi come siamo stati presentati all'inizio, comunque non siamo nemmeno la squadra materasso che era stata dipinta domenica scorsa. Forse è un'altra vera dimensione quella che abbiamo dimostrato oggi. Siamo una squadra, una buona squadra che possiamo fare nostra buonissima figura in questo campionato.